Mister Di Meo, un'altra vittoria importantissima in una partita che non è stata troppo semplice, anche noi abbiamo sprecato tanto, però poi l'importante era conquistare i tre punti e l'abbiamo fatto anche quest'oggi. È stata una partita molto tesa dove il nervosismo è altissimo e i ragazzi sono stati splendidi perché hanno tenuto botta, va a merito a loro perché ogni tre giorni giocano e quindi è difficile giocare ogni tre giorni, specialmente adesso verso la fine del campionato, va a merito a loro perché veramente si stanno impegnando tantissimo, è difficile perché come tutte le partite quando si arriva verso la fine un pochino di calo ci sta, però i ragazzi mi stanno piacendo, bravi. È difficile giocare ogni tre giorni, oggi poteva essere difficile anche farla girare su un campo in queste condizioni col bagnato, è piovuto tanto, però anche da quel punto di vista non ci sono stati grossi problemi? No, 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 i ragazzi fisicamente stiamo abbastanza bene, lavorano tantissimo, si danno da fare tantissimo, a Pasquetta ci alleniamo pure, questi ragazzi non posso dirgli veramente niente, sono dei ragazzi che stanno dando l'animo, ci tengono molto a campo basso e ci tengono ad arrivare all'obiettivo, come ci tengo io e tutta la società. Mister, le partite diventano sempre meno, siamo sempre a più due, adesso c'è anche una semifinale di ritorno da giocare. Sì, mercoledì abbiamo una partitaccia dove è una delle squadre migliori del campionato nel girone napoletano, secondo me è la migliore, è una squadra che ci ha dato filo della torcia nel primo tempo e nel secondo tempo abbiamo giocato bene noi, ce la giochiamo a viso aperto, poi quello che sta, però speriamo di arrivare in finale perché ce lo meritiamo pure noi. Ecco, una delle squadre migliori, mister, all'andata dalle tribune dei delegati, insomma dei dirigenti del San Marzano hanno detto che il campo basso è la squadra più forte che hanno incontrato fino ad ora in questa stagione. Sì, l'ho sentito pure dagli addetti che li ha messo sotto perché loro di solito alle squadre hanno dato sempre 3-4 gol, invece con noi le abbiamo dato un grande filo da torcia. La merito ai ragazzi perché siamo un'ottima squadra pure noi, una squadra che è sorgnona, una squadra che si è molto attenta, abbiamo un bel equilibrio, quindi c'è da lottare, ce la giochiamo a viso aperto, ma ripeto, voglio augurare buona Pasqua a tutti i tifosi, a tutti i dirigenti e a tutti i ragazzi perché veramente stanno dando tanto, tanto, tanto. Luca Tizzani, una gara difficile che comunque abbiamo portato a casa, forse poteva finire anche con un risultato più rotondo. Sì, è stata una gara complicata, loro si sono dimostrate una squadra molto rocciosa, non è semplice affrontare queste partite quando le squadre si mettono tutte lì dietro. Nel primo tempo abbiamo provato a far girare la palla, abbiamo messo tanti cross, soprattutto dalla parte di sinistra, sono arrivati parecchi cross, dovevamo essere più bravi sicuramente a sfruttare queste palle e attaccare forse meglio l'aria, però alla fine è arrivato il gol proprio su un cross, è stato molto bravo Ciccio e quindi va bene così, va benissimo, l'importante era vincere oggi. Ecco, va anche detto che avete sostenuto fin qui dei ritmi importanti anche a livello di partite giocate e continuerà ancora così almeno fino a mercoledì perché c'è la semifinale, il ritorno con il San Marzano. Sì, adesso riposeremo domani, poi torneremo subito ad allenarci lunedì mattina. Oggi abbiamo consumato parecchie energie perché abbiamo fatto una buona partita dall'inizio, abbiamo spinto, abbiamo pressato, abbiamo recuperato i palloni. Anche oggi il nostro portiere non ha fatto interventi importanti, a parte forse due uscite, quindi va bene così. Francesco Potenza, ovviamente sei stato votato il miglior lupo in campo da tutta la comunità rosso-blu sul web, un gol pesantissimo come i tre punti quest'oggi. Ma è importante prendere i tre punti che segnava, segnava, perché questo è un mese che ci giochiamo tanto e noi dobbiamo arrivare all'obiettivo, quindi con tutte le nostre forze. Sicuramente non siamo lucidi come all'inizio, ma questo si sapeva, quando giochi mercoledì e domenica, mercoledì e domenica, quindi adesso dobbiamo darci dentro perché dobbiamo arrivare all'obiettivo. Altre finali, tra virgolette, da giocare. L'Isernia non molla un colpo, è sempre lì anche quest'oggi. Una vittoria importante anche per loro, si deciderà praticamente all'ultima giornata. Già si sapeva che si decide tutta l'ultima di campionato, quindi siamo consapevoli di questo, abbiamo un vantaggio di cinque punti. Adesso dobbiamo arrivare al 7 maggio e arrivare all'obiettivo, quindi si sapeva già. Prima di arrivare al 7 maggio però c'è questo ritorno con il San Marzano, una gara che comunque resta apertissima, nonostante la sconfitta di misura dell'andata. Ma sì, è una partita che in casa ce la possiamo giocare tranquillamente, ci crediamo, quindi adesso ci riposiamo, carichiamo un po' le batterie perché ce n'è bisogno e poi mercoledì facciamo questa finale che non ci crediamo e vogliamo arrivare a questo obiettivo sia per la società che per i tifosi. Grazie a tutti.